Azienda veronese leader nel settore della metalmeccanica, Perozeni SRL svolge la propria attività sviluppando e producendo su commissione macchinari e impianti impiegati in numerosi settori merceologici, lapideo, navale, estrattivo, siderurgico e manifatturiero, soddisfacendo i più elevati standard qualitativi di mercato. Dalle parole del giovane Fabio Perozeni, l'incredibile storia di successo di Perozeni SRL. L'azienda nasce nel 1975 ad opera di due fratelli Armando e Daniele che hanno trasferito quella che era la loro attività da lavoratori dipendenti in una realtà propria. Sono partiti come tante realtà venete dal garage di casa realizzando dapprima prodotti manufatturieri semplici legati all'edilizia per poi passare nel tempo a una produzione più complessa e legata alla componentistica per macchinari di tipo industriale. Dalla prima alla seconda generazione l'azienda cresce fino a divenire solida e importante realtà economica locale anche dal punto di vista occupazionale. comprendendo i soci fondatori e i figli di Daniele e D'Armando che siamo in sei, più tutto il personale dipendente che è suddiviso fra i vari reparti piuttosto che a livello d'ufficio siamo in una settantina di persone. Punto di forza della famiglia Perozeni saper fare squadra e far sentire tutti i protagonisti di un grande progetto. Lo testimonia la targa esposta all'ingresso insolitamente donata dai dipendenti ai propri datori di lavoro. Un regalo che il personale dipendente ha voluto fare ai soci fondatori con grande sorpresa di tutti hanno voluto dedicare questa targa e è stata una delle poche volte nel corso della mia vita che ho visto mio papà emozionarsi. Obiettivi sempre più ambiziosi tra i progetti futuri della società che punta a rafforzare il marchio anche all'estero. Ci siamo resi conto nel tempo che rivolgerci soltanto a un mercato locale ormai non è più sufficiente per far fronte a quello che è il nostro fabbisogno di lavoro. Pertanto stiamo ampliando la nostra rete di marketing e stiamo mettendo in piedi anche delle iniziative con delle società estere per portare il nostro nome appunto all'estero. Passione e senso di responsabilità il motore che spinge il giovane imprenditore Fabio ad affrontare le sfide quotidiane che il mercato sempre più complesso di oggi propone. Innanzitutto la passione per il lavoro che mi è stata trasmessa fin da quando ero bambino da parte sia di mio papà che di mio zio e comunque la volontà di dare un seguito a quello che ritengo comunque tutto quello che di buono hanno fatto i miei genitori.